Se state avendo problemi riguardo al controller che non funziona su Dragon Ball Spark in 0 è possibile risolvere il problema andando direttamente su Steam e vai su Steam, clicca qua sopra, vai su impostazioni, una volta fatto le impostazioni qua, controller, ovviamente qua il pulsante guida e mette Steam in primo piano, quindi abilita Steam Input per i controller Xbox, supporto per i controller Playstation, metti attivo. Spegni i controller quando esce dalla modalità Big Picture, ovviamente se tu giochi con il controller su Steam ti consiglio di avviare così la modalità Big Picture, ed eccola qua, modalità Big Picture. Una volta fatto se non dovesse funzionare, driver di supporto, funzionalità estesa, Xbox e installi così il driver per il tuo controller attraverso la piattaforma Steam. Una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente su controller, quindi vai su controller, configura dispositivi di gioco USB periferiche di gioco, andiamo così a collegare il nostro controller. Vado a connettere il mio controller con chiavetta wireless ed eccolo qua, ci clicco sopra su avanzate, inserisco così il mio controller e funziona. Vado su proprietà, testo il controller e il controller funziona, tutti i tasti. Una volta fatto, premo ok. Se non dovesse funzionare, fai direttamente il tasto destro su Start qua, gestione dispositivi, periferiche Xbox 360, le mie periferiche controller, aggiungo driver, cerchi driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili ed eccolo qua, controllo Xbox, faccio avanti e installo così i driver per il mio controller. Chiudo qua e devi riavviare il computer e faccio no. Ora andiamo direttamente su dispositivi, quindi impostazione dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo. Eccolo qua, Xbox 360 per Windows, configurazione incompleta, quindi bisogna riavviare il computer. Io a questo punto faccio direttamente, rimuovi il controller, risconnetto la chiavetta, riconnetto la chiavetta ed eccolo qua, Xbox 360 per Windows. E ora non mi resta che avviare il gioco. Grazie. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo. Tutorial. Ciao.